Grazie a tutti. Grazie. 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 Paoli. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 tutti. a 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 tutti. tutti. a 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 tutti. ucrania. b b b Polina Bojcivka Come to this army, please Polina Bojcivka from Ukraine Solange Bola from France Solange Bola 330 Polina Bojcivka Polina Bojcivka Polina Bojcivka Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Alina Kalitova, from Russia, Shiro, Susanna Benkovska, Aka. Next fight, please be prepared. Senia Vizpalova, from Russia, and Alina Roti, from Ukraine. Please come to the dummy B for fight number 8. Senia Vizpalova, and Alina Roti, from Ukraine. And Alina Roti, from Ukraine. Fighters, pull next fight to the dummy B. Senia Vizpalova, from Russia, and Alina Roti, from Ukraine. Please come to the dummy B. And Alina Roti, from Russia, and Alina Roti. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Grazie a tutti. 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 Giorgi Balcov from Bulgaria. And Aka Boroskovalkov from Ukraine. Aka Boroskovalkov from Ukraine. On Tatami A. Fight number 11. Please be ready. Grazie a tutti. 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 We still waiting on podium. Milena Marget. Please be ready for next fight on Tatami B. Palina Boichitka, Shiro. Palina Boichitka from Ukraine, Shiro. And Pana Teteke from Hungary, Aga. Please come to Tatami B. Fighters for the fight on Tatami A. Fight number 15. Ukraine. Artur Bondar, Shiro. Bulgaria. Angry, smile. Aga. Please come to Tatami A. Aid. Ali B. Pit of Grazie a tutti. 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 And... 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 Grazie a tutti. 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 Massimo Povodzicca Atta Edwin Wagner. Now, part number 22, Massimo Povodzicca Atta Edwin Wagner on the tonic beat. ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti. 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 And from Belarus, Maxim Saloha, please come to Titanic B. Saloha! 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 This is the radio for next fight. Russia Vladislav Ilychev and Bulgaria Stevian Shukun. Be ready for the DMV. On Cambridge, Hong Kong and Bulgaria Stevian Shukun is the leader. Russia Vladislav Ilychev and Bulgaria Stevian Shukun is the leader. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. e tutti. e a tutti. e tutti. e a 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 tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. e tutti. e a tutti. e 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 tutti.